Il treno regionale 16702 di Tremitalia, provvediente da Peruna Porta Nuova, è diretto a Bolzano, delle ore 17 e 01, è in arrivo al binario 3. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla, ferma ora, non sono l'Aires. Il treno regionale 16702 di Tremitalia, provvediente da Peruna Porta Nuova, è in arrivo al binario 3. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla, è in arrivo al binario 3. Il treno regionale 16602 di Tremitalia, provvediente da Bolzano, è diretto a Peruna Porta Nuova, delle ore 17 e 01, è in arrivo al binario 1. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla, ferma ora, non sono l'Aires. Il treno regionale 16602 di Tremitalia, provvediente da Peruna Porta Nuova, è in arrivo al binario 3. Il treno regionale 16602 di Tremitalia, provvediente da Bolzano, è in arrivo al binario 3. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla, ferma ora, non sono l'Aires. Il treno regionale 16602 di Tremitalia, provvediente da Peruna Porta Nuova, è in arrivo al binario 3. Il treno regionale 16602 di Tremitalia, provvediente da Peruna Porta Nuova, è in arrivo al binario 3. Il treno regionale 16602 di Tremitalia, provvediente da Peruna Porta Nuova, è in arrivo al binario 3. Il treno regionale 16602 di Tremitalia, provvediente da Peruna Porta Nuova, è in arrivo al binario 3. Il treno regionale 16602 di Tremitalia, provvediente da Peruna Porta Nuova, è in arrivo al binario 3. Il treno regionale 16602 di Tremitalia, provvediente da Peruna Porta Nuova, è in arrivo al binario 3. Il treno regionale 16602 di Tremitalia, provvediente da Peruna Porta Nuova, è in arrivo al binario 3. Il treno regionale 16602 di Tremitalia, provvediente da Peruna Porta Nuova, è in arrivo al binario 3. Il treno regionale 16602 di Tremitalia, provvediente da Peruna Porta Nuova, è in arrivo al binario 3. Grazie a tutti per la giornata. Per le ore 11 e 01 in arrivo al binario 3, attenzione allontanarsi dalla linea gialla, firma ora, bronzolo, live. Per le ore 11 e 01 in arrivo al binario 3, attenzione allontanarsi dalla linea gialla, firma ora, bronzolo, live. Per le ore 11 e 01 in arrivo al binario 3, attenzione allontanarsi dalla linea gialla, firma ora, bronzolo, live. Per le ore 11 e 01 in arrivo al binario 3, attenzione allontanarsi dalla linea gialla, firma ora, bronzolo, live. Per le ore 11 e 01 in arrivo al binario 3, attenzione allontanarsi dalla linea gialla, firma ora, bronzolo, live. Per le ore 11 e 01 in arrivo al binario 3, attenzione allontanarsi dalla linea gialla, firma ora, bronzolo, live. Azpene allontanarsi dalla linea gialla, circumstance allontanarsi dalla linea gialla, firma ora, bronzolo, live. Per le ore 11 e 01 in arrivo al binario 2, attenzione allontanarsi dalla linea gialla, firma ora, bronzolo, live. 1, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lowerzogio.